Chiedere al canale di stare qua significa mettere il buccone qua e premiarlo ogni volta che mi tocca la ogni volta che va in contatto io lo prendo clicco ogni volta che mi spiego il comportamento quindi ogni volta che io lo stimolo lui adesso mi fa questo se mi va bene clicco però è leggermente storto stessa cosa per il terra si fa la stessa procedura però è importante le spalle e come tu vai a premiare perché se fai questo è come se tu li proponessi al cane il lavoro che conosce cioè di fronte quindi ogni volta che il cane fai questo lo agevole però poi vai a perdere sul lavoro altri criteri quindi se stiamo qua io gli vado a fare il terra amandosi con lui in salmi con te tutte le posizioni se io comincio a fare up terra in piedi seduto terra tenderà a fare quello che so fare bene cioè le posizioni che conosci di più e quindi da si tenderà sempre a venire dentro di fronte perché è una posizione che me ne lavora di più rispetto 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 a un fianco via chissà via chissà via chissà via chissà seduto terra i piedi ovviamente queste posizioni si fanno quando frontali ce l'abbiamo tutte e si lavora bene con o alla spalla o con tecnica